Ciao ragazzi e benvenuti su Ray Amor Channel e oggi apriremo 5 pacchetti delle figurine Adrenaline 2018-2019 di serie A ma prima di aprire le figurine mettete like su e iscrivetevi al canale qua sotto non vedo l'ora di trovare il loro Ronaldo ok direi di cominciare ok un attimo ragazzi che li apro non sono uno ecco qua tiriamo via queste qua e ora cominciamo all'apertura direi di cominciare da questa come potete vedere qua questo Ronaldo, Poli, Papu Gomez eccetera eccetera ultimo no le fa bene scusate vediamo cosa c'è dentro allora allora abbiamo questo per scaricare l'app che bello che bello muro d'acciaio abbiamo l'irola del sassuolo rizzo del bologna e maggiorini del chievo una bustina aperta non ci credo ho trovato muro d'acciaio ma che bello ma che bello ok seconda bustina ma che belle le figurine adrenaline troppo belle ultimo ragazzi si sono aperte male scusate ecco qua ecco qua che abbiamo no non ci posso credere abbiamo guanto d'oro Robin Olsen non ci posso credere ma che bello ma che bello guardate qua abbiamo Masiello della Taranta Balic dell'Udinese Drodievich del chievo Mertens del Napoli e Quagliarella della Sampdoria troppo bello ragazzi proprio non credo non ci credo se trovo Ronaldo guardate ragazzi io sono a posto con l'adrenaline perchè abbiamo già trovato il guanto d'oro di Olsen guardate ecco qua ecco qua wow anima rosso nera Milan che bello troppo bello supereroe abbiamo buonaventura qua troppo bello no Kellini idolo troppo bello questo video abbiamo Kolarov il grande Kudibali Benassi Benassi e del Fiorentina e Marchetti del Genova del Genova la penultima bustina speriamo di trovare almeno un'altra cosa più bella o allora abbiamo del Frosinone Dionis e Perica del Coppia imbattibile nooo non ci posso credere insigne top player non ci posso credere ma che bello abbiamo abbiamo Perin della Juve Higuain Rigoni e Romagnoli e Alessio Romagnoli ok ultima bustina speriamo tanto di trovare Ronaldo pensate se troviamo Ronaldo firmato che bello allora abbiamo del Sassuolo Berardi di Francesco coppia imbattibile va bene abbiamo Bruno Alves idolo abbiamo Sergei Milinkovic Savic Aleksandro Dickman e Belek ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto così tanto mettete like su e iscrivetevi al canale qua sotto ciao